Serviva una vittoria per sbloccarsi, per scacciare un po' lo spettro della crisi, è arrivato un triunfo e l'ha aspettato. Sì, lo volevamo tutti, era... diciamo che oggi c'era solo un risultato, quindi era quello di vincere. E secondo me tutti abbiamo dato tutto per vincere, per portarla a casa, anche quelli che sono entrati dopo, io poi sono contento, più per il risultato, più per il risultato. Una vittoria sicuramente di squadra, però tu sei stato veramente l'arma in più, almeno oggi poveriggio. Hai spazzato la difesa, non è? Eh, ho provato poi oggi che mi ha messo in un ruolo, diciamo il ruolo che ho sempre fatto. Ho cercato di dare tutto, la squadra mi ha aiutato comunque ad andare anche al gol, però sono più contento per il risultato. Allora io ti chiedo, fisicamente, come stai? Anche con la partita con il notarisco abbiamo avuto penuto un attimo per la tua salute. No, 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 fisicamente sto bene, giustamente dopo un po', forse tutti i 90 minuti ad andare sempre così, faccio un po' di, dopo un po' inizio a risentirne, però sto bene, sto molto bene. Prima cosa da predatore dell'area, no, di opportunismo, ho preso il tempo al difensore, secondo invece, diciamo anche qualità, la freddezza nell'aspettare, saltare l'uomo e poi anche grande potenza e precisione, è venuto fuori un euro gol. Sì, eh, sono contento, molto contento anche per questo. Senti, mercoledì si è un gioco ancora, un'altra spetta difficile. Eh sì, un'altra partita difficile, però anche molto importante, anche lì si dovrà dare tutto, quindi dovremmo stare pronti. Poco tempo per recuperarla e prepararla, però dopo un successo di questo genere poi le scorie si buttano via la svelta, penso. Sì. Io poi, io da una parte, cioè per me è meglio, cioè a me piace, poi non è così per tutti, però a me piace, però giustamente non è facile recuperare, cioè hai poco tempo per recuperare, però... C'è una domanda sicuramente banale, questa doppietta, a chi puoi dedicarla? No, la dedico alla squadra, alla famiglia. Però sono più contento per la vittoria, salvarci è la cosa più importante per me.